Ragazzi, per la prima volta a partire dal 2020, la Federal Reserve ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 50 punti base. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video, innanzitutto vi auguro un buon giovedì mattina a tutti. Mi perdonerete se non mi mostro in viso, però attualmente non mi trovo in ufficio, ma con un evento così importante che non vedevamo ormai da 4 anni, non posso lasciarvi ovviamente da solo. Infatti voglio andare a mostrarvi che cosa è successo durante la serata di ieri, dato che abbiamo avuto l'Interest Rate Decision, è stato rilasciato i nuovi dot plot, ciò vuol dire le previsioni a livello di politica monetaria della Federal Reserve per i prossimi anni e secondo me queste potrebbero avere un impatto ancora maggiore per quanto riguarda il tasso di interesse stesso. Inoltre andremo a vedere cosa ha dichiarato Powell e soprattutto cosa ha detto per giustificare un taglio di 50 punti base. Perché un taglio di 50 punti base? Perché effettivamente durante il corso della storia tutte le volte che la Federal Reserve ha adottato questo tipo di manovra è sempre stata scontata dal mercato come un taglio aggressivo di conseguenza d'emergenza. Prima di cominciare però ragazzi vi chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Hai fatto un? Perfetto, partiamo con la visuale su investing.com ma in realtà già ci siamo. Come vi dicevo ragazzi, per la prima volta a partire dal 3 marzo del 2020 la Federal Reserve ha cambiato traiettoria e invece che comunque lasciare stazionali tassi che ricordo erano fermi al 5.5% a partire dalla sessione appunto del 26 luglio del 2023 più di un anno che la Federal Reserve ovvero la banca centrale americana ha lasciato stabili tassi al 5.5% ha deciso di tagliarli di un 50 punti base ovvero di uno 0,5% ma andiamo a vedere gli highlights del discorso di Powell ok innanzitutto ha dichiarato che sia l'economia statunitense sia il mercato del lavoro e tutto quello che circonda l'economia in generale degli Stati Uniti ragazzi ha dichiarato che è in buone condizioni effettivamente ragazzi quel che deve fare anche Jerome Powell soprattutto per quanto riguarda queste dichiarazioni al pubblico durante le FOMC eccetera eccetera queste dichiarazioni ufficiali è tranquillizzare le persone non è che poteva dire espressamente anche se fosse così che ha tagliato di 50 punti base perché pensa per esempio che il mercato del lavoro sia troppo compresso e di conseguenza per andare ad evitare ulteriori problemi ha deciso di attuare un taglio abbastanza importante ovvero di 50 punti base il fatto è che in un taglio di 50 punti base sapete benissimo l'abbiamo affrontato più e più volte all'interno dei video passati aumenta le probabilità di una possibile caduta in recessione se andiamo a prendere ovviamente anche tutti gli altri tagli dopo che appunto la Federal Reserve aveva lasciato i tassi appunto alti vediamo che su 5 volte l'unico e due volte che la Federal Reserve ha deciso di andare a tagliare i tassi di 50 punti base comunque sia per gli anni successivi le performance dello Standard & Poor's 500 che riflette un po' l'andamento generale del mercato globale non è che siano state poi così grandi a un anno per esempio nel 2007 abbiamo avuto un meno 18,9% a due anni un meno 26, meno 20 a tre anni, meno 12 a quattro anni soltanto dal quinto anno poi abbiamo riniziato con una positività non sto dicendo che per forza debba ripresentarsi questo scenario però effettivamente ragazzi se andiamo ad analizzare a livello passato questa manovra cosa ha indotto sul mercato effettivamente abbiamo visto uno scenario ribassista questo perché? Perché un taglio di 50 punti base è stato il sintomo di una economia comunque sia in difficoltà e di conseguenza ha preanticipato una recessione speriamo che non sia così questa volta speriamo appunto che questa sia l'eccezione che conferma la regola però nonostante ciò ragazzi vi consiglio di rimanere sempre iscritti al canale perché vi aggiornerò giorno per giorno su quello che si sta presentando soprattutto dal punto di vista dei dati eccetera eccetera anche perché è l'unica cosa che possiamo andare effettivamente ad analizzare non sono tanto le parole dei governatori in questo caso appunto di Jerome Powell ma dobbiamo attenerci ai dati che ci presenta il mercato tra l'altro ha dichiarato anche che niente nelle proiezioni della Federal Reserve ha suggerito e suggerisce il fatto che stanno adottando una politica ritardataria appunto non sono in corsa questo vuol dire appunto che secondo lui non sta adottando appunto un taglio di emergenza nonostante ciò un'altra cosa importante e secondo me è tra le più importanti secondo me sono i nuovi dot plot se prendiamo in considerazione i dot plot di giugno che sono questi qui appunto i pallini con un celeste un pochino più chiaro invece quelli con un celeste più intenso abbiamo il dot plot nuovo aggiornato se li mettiamo accanto vediamo come le proiezioni del dot plot di giugno erano decisamente più alte rispetto alle proiezioni di settembre perché vuol dire? Vuol dire che durante il 2024, 2025 e anche 2026 la Federal Reserve si aspetta un taglio più massivo un'accelerazione dei tagli rispetto al dot plot scorso questo vuol dire che in questi ultimi tre mesi effettivamente ha visto un qualcosa nell'economia che ha indotto la Federal Reserve ad accelerare con i tagli e questo ovviamente potrebbe essere positivo per quanto riguarda i mercati dal punto di vista di appetibilità che vuol dire? Vuol dire che un taglio dei tassi sapete bene come comunque nel breve medio termine aumenta la possibilità di un abbassamento del rendimento dei bond ovviamente delle obbligazioni in questo caso degli Stati Uniti e questo sapete bene come in situazioni di una alta inflazione e soprattutto di tassi alti gli investitori, soprattutto i big vanno a depositare la maggior parte dei capitali all'interno di questi strumenti ovvero dei bond perché? Perché ovviamente sono degli strumenti più o meno sicuri almeno per quanto riguarda l'economia americana e comunque sia che danno dei rendimenti abbastanza importanti il fatto qual è? il fatto è che tendenzialmente leva liquidità dai mercati tradizionali e anche dal mercato delle criptolute in questo caso invece quando vediamo una accelerazione verso il ribasso ovvero un passaggio di politica monetaria restrittiva ad una politica monetaria invece espansiva o comunque sia che vada ad abbassare i tassi di interesse invece rende più appetibili i mercati tradizionali in questo caso anche il mercato delle criptolute prima di passare al grafico andiamo a vedere appunto le target rate probabilities della prossima sessione ovvero che ci sarà il 7 novembre del 2024 attualmente ci troviamo un 68,3% per un taglio di 25 punti base e invece un 31,7% per quanto riguarda un taglio di 50 punti base prima di continuare ragazzi mi voglio soffermare un paio di minuti per andare a parlarvi di un progetto che a quanto pare siete veramente in tanti che volete il mio parere a riguardo dato che mi riempite appunto di richieste non voglio andare a fare un video dedicato e inserirlo in protocollo sotto ai riflettori perché io credo che non ce ne sia bisogno e a breve capirete il motivo per il quale non ce ne sia bisogno stiamo parlando appunto di un progetto che a quanto pare interagisce con il Web3 ma ha delle integrazioni in stile casino e già qui per chi mi conosce sa benissimo che non sono un fan di queste cose nella vita reale figuriamoci quando abbiamo un'integrazione con il mondo cripto che già dall'altro è già complicato di suo già si parte bene si fa per dire perché subito sbuca un pop-up dove ti chiede di registrarvi ti chiede il numero di telefono la valuta che può essere appunto euro o rublo russo ci fa capire da dove viene questa tipologia di progetto quindi ho cio nonostante ciò vediamo come ci sono svariati giochi qui possiamo trovare la sezione dei nuovi giochi le varie promozioni instant win eccetera eccetera ok tra l'altro il sito è diviso in ben due parti la prima parte è la parte slot la seconda parte è casino live scorrendo verso il basso vediamo che in realtà non accetta soltanto criptovalute come tether bnb e bitcoin ma accetta anche bonifici sepa a quanto pare skrill visa eccetera eccetera quindi ragazzi possiamo capire che è un progetto che interagisce anche con il mondo cripto ma non solo e soltanto esclusivamente dato che per cui pare anche che interagisca con il sistema tradizionale fiat detto ciò ragazzi oscio quando si parla di questi progetti perché sarà che parto sempre prevenuto però raga sapete benissimo l'opinione a riguardo di queste cose spero appunto di aver soddisfatto la richiesta soltanto con questo piccolo spezzone richiesta appunto di tutte quelle persone che hanno chiesto un'opinione a riguardo di questo progetto adesso direi che possiamo continuare perfetto ragazzi passiamo invece con il vedere come si è comportato il mercato e come ha reagito il mercato delle criptovalute al taglio di 50 punti base ovviamente questo è un andamento del mercato emotivo e vediamo come diciamo che ha reagito decisamente bene abbiamo 6 che guadagna un 20,6% sui un 16,1% ex un 26,9% in linea generale comunque sia possiamo vedere che il mercato è positivo spunta all'occhio anche ethereum che è difficile vederlo in questa situazione comunque sia guadagna un 3,3% ma andiamo a vederlo nel dettaglio con la visuale su coin market cap infatti vediamo come il mercato è cresciuto considerando la global crypto market cap che è salita a un 2,15 trilioni di dollari di un 2,78% nell'ultime 24 ore vediamo come bitcoin sale di un 2,5% nell'ultime 24 ore assestando il prezzo a 61.969 dollari ethereum allo stesso modo guadagna un 3,32% come abbiamo già visto prima assestando e tornando sopra ai 2.400 dollari andiamo a vedere molto brevemente a grafico che cosa è successo ora ovviamente come ho detto prima voglio andare a vedere poi le chiusure weekly perché sono quelle più importanti qualora la chiusura weekly chiudesse in questo modo non sarebbe poi chiusa in male effettivamente lo scenario più bullish che possiamo vedere è una rottura dei 64.900 dollari perché effettivamente andrebbe a superare il massimo precedente andando a confermare una inversione almeno per quanto riguarda il breve termine ma tornando sul daily e mantenendo ovviamente i piedi per terra perché attualmente voglio vedere quello che succederà appunto nei prossimi giorni dato che abbiamo visto come l'FOMC ha mosso un po' tutti i mercati vediamo come innanzitutto abbiamo rotto e confermato il massimo sul daily ovvero il massimo che sarà formato tra il 13 e il 14 settembre a 60.700 dollari quello che avevamo appunto contestualizzato negli scorsi video quel che mi piacerebbe vedere anche qui però sul daily andare a prendere la liquidità al di sopra dai 65.400 dollari perché questo potrebbe essere una conferma definitiva che poi abbiamo la forza di andare a ritestare la trendline che a quel punto si trova in prossimità a 67.400 dollari quindi diciamo che il mercato non ha reagito così male abbiamo confermato almeno per adesso una rottura del minimo precedente il che non è affatto male a meno che oggi non andiamo a rientrare al di sotto dei 60.200 dollari 60.100 dollari allora lo scenario potrebbe essere di continuazione ok ovviamente una invalidazione di questo pattern sarebbe come detto prima una rottura e conferma verso il ribasso nonostante ciò vediamo come l'FOMC abbia indotto una presa di liquidità sul weekly sulla liquidation heatmap di bitcoin in zona 61.400 fino ad i 61.500 perché effettivamente nella giornata di ieri poi bitcoin ha toccato addirittura anche i 62.200 dollari nonostante ciò vediamo alcuni dati che prende in considerazione l'aggregated open interest e l'aggregated funding rate e secondo certi dati ovviamente qui stiamo parlando di un andamento a 15 minuti di conseguenza lo scenario potrebbe cambiare in ogni momento però vediamo come tendenzialmente questo non è soltanto uno short squeeze questo andamento verso il rialzo ma è indotto da posizioni long che sono state fillate di conseguenza di persone che sono entrate long attivamente sui mercati ok o meglio questo nella maggior parte dei casi ce lo riporta anche l'accelerazione del funding rate 0,0103 come si sono invece comportati i mercati tradizionali se prendiamo l'indice d'eccellenza ovvero lo standard impulse 500 vediamo come attualmente nella giornata di ieri abbiamo visto comunque sia una presa di liquidità con questa spike che però è stata subito riassorbita abbiamo incontrato un muro di ordini ma questo in realtà è normale perché quando abbiamo diversa liquidità da andare a prendere poi nel breve termine che sia una liquidità dall'alto verso il basso una liquidità appunto di una top sapete bene come nel breve termine possa essere un punto di reversal e così è stato anche appunto per lo standard impulse che come potete vedere ha preso esattamente la liquidità dei precedenti massimi storici del 16 luglio del 2024 nonostante ciò andiamo a vedere molto rapidamente il DXY il DXY che rimane sempre molto in limbo se dovesse sfondare verso il ribasso questa zona allora e tendenzialmente potrebbe essere così nel futuro nel lunghissimo termine effettivamente allora se dovessimo rompere nel verso il ribasso questa zona potremmo vedere un DXY che perde terreno ok ovviamente se una politica monetaria espansiva nel lungo termine vada a beneficiare i mercati a risk on come per esempio il mercato delle stock indici eccetera eccetera compreso anche speriamo il mercato delle criptolute tendenzialmente però va a discapito del DXY ovvero il dollaro americano nonostante ciò andiamo a vedere molto rapidamente in ultima battuta Ethereum se lo trovo ve lo faccio vedere eccolo qua Ethereum vediamo come attualmente per fortuna abbia recuperato almeno per adesso il livello anche se con molta goffaggine non so se appunto si utilizza questo termine italiano nonostante ciò dobbiamo andare a meno a recuperare i 2500 dollari per andare a confermare una inversione tra virgolette di breve termine per ciò che riguarda le daily di Ethereum ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di tutta questa situazione fatemi sapere che cosa vi aspettate per quanto riguarda il futuro per gli asset a RISCON compreso Bitcoin e il resto delle altcoin se non l'aveste ancora fatto ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendo al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao